Per 10.518 dipendenti del settore dell'artigianato è in arrivo il pagamento dell'FSBA, l'equivalente della Cassa Integrazione, relativa ai mesi di lullo, agosto, settembre e buona parte di ottobre. Venerdì, infatti, il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto per l'erogazione di 448 milioni, che dunque, appena la Banca d'Italia trasferirà le risorse all'ente bilaterale, verranno utilizzati per i pagamenti. Una prima tranche era arrivata a ottobre, dopo le pressioni di CGL, CISL e UIL, erano stati sbloccati i fondi destinati al pagamento delle Cassa Integrazione di maggio e giugno dei lavoratori dell'artigianato, che vengono appunto erogati dall'ente bilaterale. In Toscana arriveranno 48 milioni, destinati a 20.000 lavoratori. Dopo questa seconda tranche di pagamenti resteranno in sospeso una parte di quelli del mese di ottobre tutto novembre, ma gli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Covid sono stati prolungati fino a marzo, quindi le imprese potranno continuarvi a farvi ricorso anche nei prossimi mesi. Le aziende pretesi che fino ad oggi hanno utilizzato la FSBA per l'emergenza sanitaria sono oltre 2.000.